Un ragazzo di 8 anni di nome Sergio si è allontanato da casa senza dare più sue notizie. Al momento della scomparsa indossava un maglione blu su camicia bianca, scarpe di tela e pantalone grigio. Chi è in grado di dare sue notizie è pregato di avvertire il più vicino posto di polizia. E di pregato io faccio una vostra mamma, mi risponisci che mi dici affam. Dopo spusate giuramente per me, sono diventate tutte valenze. La moglie di papà si è fidanzata, perciò, perciò non te ne ti impegnerà. Si truca quando è ben fidanzata, con serra e chiave e strella ma sta truca. Che ne va la tratta bene o male o male. Ma fa l'amore con quell'altro là. Che ne va la tratta bene o male 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 o male. Che ne va la tratta bene o male 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 o male. e tu, mi dici come fosse niente da sei. E' distrutto senza le pietà. In questa casa povera e olorata Io non t'avessi avuta mai a portata Speriamo e togagniamo Sì, sbagliamo Ma io d'accesso per un po' il campano Speriamo e togagniamo